Oltre due tonnellate e mezzo di fuochi d'artificio sequestrati, una persona arrestata e un'altra denunciata. E questo il bilancio di due diverse operazioni condotte dalla Guardia di Finanza nel Napoletano. Con l'avvicinarsi del Capodanno, le fiamme gialle hanno intensificato l'attività di contrasto ai fenomeni illeciti in materia di produzione e vendita di fuochi d'artificio e botti illegali. Nel comune di Giuliano in Campania, località Barcaturo, i finanzieri del gruppo di Pozzuoli hanno scoperto un deposito ricavato all'interno di uno stabile residenziale contenente oltre 78 mila artifici pirotecnici per un peso complessivo di due tonnellate e mezzo. Il deposito era stato predisposto abusivamente ed in totale assenza di autorizzazioni. Il responsabile è stato arrestato. Nel comune di San Gennaro Besuviano, in pieno centro cittadino, i finanzieri della Compania di Ottaviano hanno invece fermato un veicolo commerciale, all'interno del quale venivano trasportate senza le previste autorizzazioni numerose scatole contenenti oltre 68 mila pezzi di fuochi d'artificio illegali, confezionati e pronti per la vendita.